Oggi negli Stati Uniti si vota. Dopo che in realtà 45 milioni di cittadini statunitensi hanno già votato nelle settimane e nei mesi scorsi, oggi è la giornata decisiva in cui la gran parte dei cittadini andrà a votare. Qui a Bruxelles c'è molta attesa per l'esito di queste elezioni. Non si nasconde un sacro terrore di una vittoria di Donald Trump e si appoggia praticamente senza condizioni Hillary Clinton. Lo ha detto in modo suo, con la sua tipica verba diplomatica, il presidente della Commissione europea, a chi gli chiedeva se lui avesse preferenze, lui ha detto che chi sono io per dare consigli ai cittadini americani al massimo possa avere una preferenza di genere, che essendo un candidato maschio e l'altro una donna, chiaramente la preferenza di Juncker è per la Clinton. Perché queste preferenze? Perché Clinton garantisce una continuità di relazioni transatlantiche in un periodo molto delicato, tra l'altro, dove c'è in discussione ad esempio il TTIP, del trattato commerciale che Trump vorrebbe cancellare, mentre invece la Commissione europea ancora ci crede e Clinton dovrebbe essere, insomma, a far avorevo, prendendosi i suoi tempi, però dovrebbe essere più in linea con questo processo iniziato già due anni e mezzo fa. Poi c'è una serie di relazioni con la Nato, che per l'Unione europea sono molto importanti, e che Trump invece vorrebbe sostanzialmente troncare, mentre invece Clinton chiaramente continuerebbe come è stato in passato. Le relazioni economiche, le relazioni politiche, i rapporti di politica estera con Hillary Clinton si è una strada conosciuta che si è già condivisa quando Clinton era segretario di Stato, che è poi la funzione principale che ci interessa a noi come europei, cioè la politica estera degli Stati Uniti, più che le questioni interne, come le differenze con le quali i due candidati le vogliono regolare. Quindi c'è molta attenzione, anche qui tra giornalisti non si parla d'altro, in ascensore sarendo trovato un collega tedesco che mi chiedeva il mio parere su come sarebbero andate le relazioni, lui mi ha dato il suo, lo stesso è successo ieri. Insomma c'è molta attesa perché potrebbero, se queste relazioni dovesse andare nel senso il vice Trump sarebbe un elemento fortemente destabilizzante per l'Unione Europea che si aggiunge ai tanti problemi che l'Unione già ha in questi anni.